ragazzi sono allo mare però guardo proprio cosa è successo non ho più un dito cioè non ho proprio un dito ho perso un dito aspettate che vi ho mostrato un po' cioè non ho più un dito lo posso farvi comparire quando voglio lo so perchè in realtà adesso ho il potere del tetasporto ditta infatti adesso cioè di nuovo però capitemi posso far scomparire un dito è bellissimo ci riprovo non ho più il meglio che è anche una cosa positiva mi è ricomposto il meglio vabbè in realtà sto utilizzando sempre un gadget verde da mettere al dito e ho usito il green screen per mettere il dito in realtà non ho perso un dito è tutto falso e tutto bello questo è tutto questo è tutto non solo con le dita ma potete fare anche io tipo così metterlo in mano comunque l'effetto è sempre quello perché dentro è bianco quindi dentro non si vede tanto è bianco vedete che non si vede che è bianco è bellissimo al pollice funziona un attimo si funziona anche al pollice comunque vabbè ragazzi ciao